Mi presti un po' di utensili? Certo, Marco. Wow, che meraviglia. Qui c'è di tutto per fare da te. Giardinaggio, decorazione, cura dell'auto, pulizia e tanto altro. E per di più funzionano tutti con la stessa batteria. Wow, ovviamente. Te li riporto, lo so. Ryobi One Plus. Una batteria per tutti. Grazie.